ecco qui la Dora con il suo primo bagnetto all'idroscappa no vedi che non scappa Gabri guarda no no guarda che brava che è oddio adesso guarda come no vedi che non va via Gabriele vedi che brava siamo qui al parco dell'idroscalo il suo primo bagnetto che fa la Dora eccoli qui guardate com'è felice che corre nell'acqua madonna via avete visto che bello guardate un po' com'è pulita oggi l'acqua dell'idroscalo ieri ha piovuto tanto guardate è bello invece Noemi e Luca stanno tirando i sassi comunque se volete venire a fare in questi giorni una bella passeggiata sull'idroscalo si sta proprio bene e alla mattina e alla mattina non c'è proprio nessuno oh mamma così lontana Marco oddio mamma che brava che è brava Dora guarda che c'è la tua amica che ti aspetta e lì arriva un maschio ah un maschio ah è vero è vero è vero dai Dora che c'è il tuo amichetto vediamo bellissime lontani da Dora eccola là che è andata a recuperare la pallina guarda che brava la Doretta guarda che nuota vado eh sì è la prima volta proprio non l'abbiamo mai vista nuotare brava state lì lontani Gabri che adesso si scuote ecco che è rientrata nel lago non salta a Dora no dai bambini è tutta contenta è il suo primo bagnetto nel lago adesso ci bagna tutti è proprio bello qui guardate un po' guardate un po' e dopo il bagnetto all'idroscavo eccola qua pronta per un bel bagnetto casalingo ti piace Dora? sì sono mica troppo contenta e vabbè da così ancora per questo mese risparmiamo la toilette no vabbè questo che bagno è il terzo da quando ce l'abbiamo il quarto sì è da un po' in realtà che non la laviamo sì l'ultima volta l'avremo lavata forse a febbraio a febbraio secondo me vedete lo shampoo dei cani è una bella lavata sì è da un po' in realtà sì è da un po' in realtà che la lavata per la lavata la lavata non la lavata